Salve a tutti, sono Marvin e benvenuti a una nuova puntata dedicata all'offerta della settimana di bevingrosso.it, il tuo sito online dove puoi acquistare la tua fornitura di bevande. Siamo pronti per una serie spettacolare di prodotti questa settimana e iniziamo infatti dalla nostra postazione con la prima tranche di offerte con il Martini, il simbolo dell'aperitivo italiano del gruppo Martini e Rossi, il Martini rosso storico vermouth ed il bianco, un blending di vini bianchi dal grande gusto, bottiglie da litro al prezzo di 5,63€. E riproponiamo ora una vodka premium francese apprezzata in tutto il mondo per la sua purezza e per la raffinatezza della bottiglia, vodka Grey Goose, la bottiglia CL70 al costo di 27,45€. Continuiamo poi con un distillato, questa volta una tequila per la prima volta in offerta, tequila Sousa Blanco CL100, dal Messico uno dei grandi marchi dei distillato di agave al prezzo di 12,26€. Anche questa settimana un'offerta per la birra, questa volta davvero speciale. L'olandese birra Heineken presentata in tutto il suo gusto nel formato mini CL15, ideare per ogni situazione e per tutte le attività, facile da trasportare e da servire. Il cartone da 24, ve lo offriamo a 11,35€ e con 3 cartoni anche questa Polo Champions League, un'occasione da non perdere. E si moltiplicano le occasioni anche in casa Coca Cola. Vi offriamo infatti i marchi Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta e Sprite in bottiglie di vetro CL33, 3 confezioni da 24. E se acquistate un pacco di ogni marca Coca Cola avrete un pacco di bicchieri, un grembiule, il vassoio e l'esclusiva Polo Nera. Collezionate l'universo Coca Cola in vetro al prezzo di 13,40€ la confezione. E anche per oggi è tutto, nonostante il magazzino molto affollato vi saluto e vi invito ad iscrivervi ad ordinare su www.bevingrosso.it per non perdere nessuna di queste offerte. Un saluto e alla prossima settimana con le nuove straordinarie offerte di Bevingrosso.it Grazie a tutti!